Olla gente, come andiamo? Stiamo andando a casa, andando a casa, lindo dia. Cómo stanno, in cui stanno, che stanno facendo, come le va, tremendo dia, oggi, bene, al sol, Quien sta conectado? Dìganmi. Hola Marcelo. Andai bene? Vieni qui nella casa. Acà stiamo. Allora, aburrido. Hai di metere in casa. Il coronavirus è fuori. Non è giusto. Hai di salire. Basta del coronavirus. Il lunes è lavorato. Il coronavirus è fuori. Il coronavirus è fuori. Il lunes è tutto alla normalità. Aggiunga la contruzione. Omnibus solo. Se terminò il coronavirus. Ommo arriva. Ommo. 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 Il coronavirus si è fuori, basta di assustare la gente, si sta, hai che salire muchachos, non si che, è più adentro, si sta, questo con un virus è per portare le miedo a la gente, per portare i valli, per portare tutto, basta. E oggi, oggi che va a nascere, oggi che è sábado. Questo è lo che vedo del coronavirus, questo, che stanno approfittando per che la gente non trabaje, per pagare meno, per mandare a la gente al seguro, e capace le prete echan. Andate a sapere, e come scusa, che il paio sta male, mette il coronavirus, è così. Per questo, hai che salire, già sta, basta, hai un messa, che stai per sparare, hai che salire, già sta. hai che lavorare, basta restare in casa, hai che lavorare, basta restare in casa. e poi lavorare tutto come stai per l'acciaio, e poi lavorare tutto come ande. Sì, come sta il paese, stanno distraendo a la gente con il coronavirus. Sì, basta di mentirà. No, hai che lavorare e che so dormire, tu hai che falterare. Sì, basta che viva tutto alla normalità. Non voglio dire che la gente in la notte non stiamo lavorando per una pandemia. Stiamo tutti loco. Acà hay algo més che questo. Algo más hay. No pueden cortar la noche, hay gente que vive de eso, ya está. La ultima que vayan a los bailes con tapabocas, es así. Pero no nos pueden cortar la noche, que es con lo que trabajamos. Los isogues, los cantantes, los empresarios, ya está. Tenemos que hacer algo. Es así. Qué conocido. Y si, no me voy a tener las tardes todavía. Después, van a poner de excusa que con el invierno se va a morir más gente y peor. Menos, menos nos van a dejar trabajar. Es así. Es así. Ya estaba. El... 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 volta, però non cortaron la nuova la notte a tutti, e non può essere. Ah, il conejito del sabone, all'aliva, 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 Miriam, Microsoft, a grande caliente, che fa un mes che non abbiamo voluto niente, un desastre questo. Se può fare bolliche con prevenzione, non so perché non lo facendo, e non stanno matando a la gente che lavorano la notte. Non puoi essere. Non c'è, che direi, per l'anno di agosto, la notte di nevi volvere, che nemmo volvere a lavorare, ci sta. a, 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 Lutte in Gihannone, Oggi vanno a scegliere la televisione in la casa. Si quieren donar alimentos, Ramón y Cajal y Juan Ramón Gómez, mi ser 099472179, si quieren donar alimentos. No puede ser que tengamos que estar viniendo donaciones cuando queremos trabajar. Increíble esto. Hola. ¿Estoy bien? Bien. Eso está mal. No puede ser que tengamos que estar viniendo donaciones cuando queremos trabajar y no nos dejan. Increíble esto. Se están siguiendo donar alimentos, Ramón y Cajal y Juan Ramón Gómez. Mi celular 099472179. 099472179. 099472179. Es una mega disco que hay más música nueva. No. No. A ver. Sí. A ver. parte del Uruguay, comente. Asi se. Hola Diego, io l'olio di Reis Mansa. La Reis Mansa, vedo tu video, ti ha comodo che puoi salire a vagliare, e si, stiamo tutti uguali. Però stiamo, stiamo mandando la notte, la verrà un disastro. La gente sta vulnera di stare dentro, enciclata, hai che salire, già sta, non lo chiediamo mai, dentro. Se il coronavirus, se lo avancano, stai, hai che le gioca le gioca. è assi. Però, un mes che sta tutto parato, è assi. è assi. è assi. non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, il coronavirus se va a quedar, hai che salire. è assi. è assi. è assi. È assi. è assi. è assi. non c'è, è assi. non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, la presidencia�, i credenzial, la presidencia, la presidencia, nunca, esamondo alla gente che s'entrotana, non c'è, non c'è, perché, almeno che, che, in una assura, una ganata a la gente che lavoriamo in los boliches, a los cantandes, le dan ganata a los prezos, la gente che lavoriamo con i anni, come è, è incredibile, e se durbì al fin di ambio, questo è un avion, se durbì al fin di ambio, no, ahi si no mori, no moriria, mostro grande, è così. E che va a terminare questo, non si sa bene. A ver, chi è conectato al Facebook? Comenten. Compartan questo video, se possono. Preciso donazione di alimenti. Lo che puoi, perché la cosa è complicata. Preciso donazione di alimenti. Grazie. Bonino. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti